Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo a seguire il campionato nel mondo Rapid e Blitz e oggi vediamo una delle partite più belle, anzi forse la più bella partita di questo campionato mondiale una partita epica, piena di capovolgimenti da una parte e dall'altra che vede i protagonisti Duda e Giobava, questi due fortissimi grandi maestri e là andiamo subito a vedere questa partita ma se non l'hai già fatto ti invito a cliccare sotto iscriviti per supportare questo canale e farmi crescere in modo tale che posso portare sempre contenuti esclusivi e attivando la campanella non ti perderai neanche una notifica dei video che pubblicherò allora partita Rapid e quindi 15 minuti più 10 secondi a mossa Duda apre con D4, D5 di Giobava, C4 D per C quindi gambetto di donna accettato cavallo F3, cavallo F6, E3 fin qui tutto è nella norma i giuratori hanno sviluppato i pezzi verso il centro come è corretto E3 serve perché il pedone, il bianco lo vuole ricatturare con l'alfiere in modo tale da svilupparlo e catturare un pedone qui il nero gioca l'alfiere G4 in realtà esiste anche E6 quindi vediamo magari brevemente questa linea che può essere interessante E6, alfiere per C4, C5 il nero deve reagire al centro perché il bianco ha un ottimo centro al pedone D4 controllato dal pedone N3 e quindi una spinta di rottura è necessaria C5, arrocco corto, A6 in modo tale da minacciare un'espansione nel lato di donna e fianchettare l'alfiere alfiere B3, cavallo C6, cavallo C3 questa è una linea assolutamente giocabile che porta a un gioco pari in cui il nero non ha alcun problema quindi se vi va di approfondire questa linea col gambetto di donna accettato ve la consiglio assolutamente alfiere G4, alfiere per C4 E6, H3, alfiere H5 cavallo C3, cavallo C6 fin qui nulla di sbagliato assolutamente siamo in apertura entrambi i giocatori hanno sviluppato i pezzi verso il centro rimane solo l'arrocco e l'alfiere camposcuro per entrambi gli schieramenti qui il bianco gioca A3 in realtà è anche interessante magari diamogli un'occhiata è interessante alfiere B5 con l'idea di inchiodare subito questo cavallo in C6 e quindi dare un certo fastidio a questo pezzo per esempio alfiere D6 E4 con minaccia di D5 cavallo in D7 per schiodare il cavallo in C6 alfiere in E3 perché attenzione qui la minaccia del nero è anche alfiere per cavallo donna per e cavallo per D4 quindi alfiere in E3 difende il pezzo di D4 arrocco corto e qui il bianco ha due idee completamente opposte una è semplice, arroccare corto la mossa è probabilmente più intuitiva che è assolutamente corretta mantiene una posizione con un ottimo centro di pedoni sia centro mobile in cui il bianco può spingere D5 un'altra è più aggressiva ed è G4 bellissima mossa molto interessante che si può fare perché il bianco ha un ottimo centro quindi non ha paura di un attacco centrale da parte del nero e quindi può subito permettersi di attaccare ovviamente porta una partita super tagliente super aggressiva invece Duda ha giocato A3 A3 A6 G4 ecco un po' per seguire quella linea che abbiamo visto poc'anzi G4 con l'idea di aggredire subito l'avversario effettivamente il bianco non deve temere un attacco da parte del nero infatti il centro è controllato non vi sono attualmente spinte di rotture che possano aprire le linee e quindi G4 assolutamente corretta inizia questa partita pazzesca già con una spinta del pedone G alla nona mossa alfiere D6 cavallo H4 con l'idea di catturare questo alfiere e quindi mantenere la coppia di alfieri alfiere in D6 cavallo per G6 H per G6 alfiere in D2 quindi il bianco riesce nel suo intento ha quindi un'ottima coppia di alfieri e il nero deve reagire deve reagire e quindi gioca D5 spinta di rottura per cercare di aprire le linee assolutamente corretto in quanto il re bianco è al centro e quindi bisogna trovare un controgioco D5 il bianco ovviamente non ci sta vuole chiudere il gioco e continuare il suo attacco e quindi spinta di del pedone D cavallo in E7 G5 continua la spinta dei pedoni ed ecco che ora il bianco minaccia il cavallo in F6 ma soprattutto in futuro potrebbe essere interessante la spinta del peone H H4-H5 cavallo in D7 donna G4 si attiva la regina si libera un eventuale arrocco lungo e si minaccia come dicevamo prima la spinta del peone H cavallo in F5 il cavallo tiene un'ottima posizione in una casa difesa dal peone G6 e ora H4 molto interessante per difendere il peone G5 e minaccia il H5 qui il nero gioca al fiero in E7 ma probabilmente donna in E7 era più precisa perché? perché qui l'attacco del bianco sembra essere forte e quindi è meglio subito arroccare lungo per esempio vedeva continuare la partita con arrocco lungo arrocco lungo al fiero di D3 in cui il nero si è protetto di D3 è vero che ora c'è una bella minaccia sul cavallo in F5 quindi si rischia di perdere un pedone ma magari poi il nero potrebbe reagire cercando di recuperare attaccando il pedone D5 quindi donna E7 è assolutamente favorevole dopo al fiero di D7 invece la partita si incanala in un sentiero molto difficile tortuoso per Gio Bava non so in realtà se la pronuncio corretta di Gio Bava o Gio Bava penso sia Gio Bava in caso fatemi sapere nei commenti così a prossima volta lo pronuncio correttamente perché qui arroccare corto non se ne parla è assolutamente follia arroccare corto con i pedoni già arrivati la torre pronta ad attaccare la regina pure pronta quindi il re doveva rimanere al centro perché la regina è di ostacolo al rocco lungo e quindi qui la situazione è veramente complessa vediamo come si destreggerà il giocatore nero cavallo in D6 alfieri in E2 cavallo in C5 quindi si migliora la posizione di cavallo assolutamente corretto sì donna in G2 B5 B5 spinta per cercare di attaccare a questo punto il nero decide di lasciare il re al centro e vuole passare al contrattacco il bianco ha arroccato lungo pur non avendo pedoni nella coronaccia a difesa e quindi il nero vuole sbaragliare vuole distruggere questa arrocco e creare un fortissimo attacco qui il bianco giocare in C2 una mossa azzardata molto strana probabilmente è giusto muovere il re ma forse in B1 è più difensiva più tranquilla per esempio come poteva proseguire la partita donna B8 F4 spinta di rottura perché è vero che il bianco è sotto attacco ma il nero non ha ancora arroccato il re al centro e quindi sei il re dell'avversario al centro cosa dovete fare? dovete aprire le linee subito aprire la colonna E la colonna D è fondamentale quindi F4 serve proprio a questo scopo pedone per e attenzione qui addirittura anziché mangiare si può spingere in E4 con l'idea di creare questo forte attacco al centro con i pedoni in realtà poteva anche andare bene la cattura assolutamente nulla di sbagliato perché apre la colonna E quindi come principio strategico è assolutamente corretto però probabilmente in questa particolare posizione con i due pedoni al centro si può creare un attacco ancora più forte ma è solo un'eccezione quindi cavallo in C4 D6 ecco anziché spingere prima E5 e poi D6 addirittura funziona pure D6 subito pedone per cavallo in D5 qui il bianco domina la scacchiera perché? perché questo pedone cadrà questo pedone in D6 è debole il cavallo in D5 è fortissimo infatti attacca l'alfere in E7 potrebbe minacciare in futuro dei doppi con cavallo in C7 sappiamo che attualmente è difeso ma chissà in futuro quindi qui il bianco ha veramente una posizione fantastica H5 potrebbe essere anche interessante con l'idea di aprire con H e poi minacciare qualche scacco nell'ottava traversa dopo magari un cambio di torri quindi qui secondo me Duda avrebbe vinto in poche mosse Ren C2 invece ha giocato torre in B8 il nero vuole minacciare il B4 cavallina 2 per difendere appunto la casa B4 donna D7 qui un errore un errore da parte del nero infatti era meglio donna C8 perché la mossa donna C8 era migliore perché su alfiere G4 si permette di giocare donna B7 si crea questa casa di fuga e invece dopo donna D7 alfiere G4 la regina non ha case quindi l'unica maniera di difendere è cavallo F5 però questa posizione non è buona infatti cavallo in B4 guarda come il cavallo sta minacciando di andare in C6 una casa ottima assolutamente fortissima per il cavallo dove minaccia l'alfiere minaccia la torre è difeso dal pedone assolutamente ottima torre in B6 alfiere in C3 si minaccia il pedone D5 guardate come i pezzi del bianco cominciano a collaborare e attaccare tutti insieme la posizione sembra essere fantastica per Duda A5 cavallo in C6 B4 alfiere per D5 ma qui lieve imprecisione di Duda infatti dopo alfiere per D5 il nero risponde giustamente con B per A3 permettendo un ottimo controgioco al nero qui sarebbe stata una scelta migliore pedone per pedone per e poi alfiere per D5 in questo modo la colonna B è chiusa e quindi non c'è controgioco per il nero e dunque il bianco può procedere col suo attacco in maniera molto tranquilla invece alfiere per pedone per pedone per guardate qui la colonna B cioè il re si trova in C2 e non ha più pedone a difesa è un re libero pedone per Arocort a questo punto Giobaba decide che è il momento di arroccare perché vuole portare la torre non ora perché c'è il cavallo ma magari in futuro vuole portare anche la torre in gioco e ancora H5 allora il bianco deve attaccare deve sfondare nel lato di re perché è giunto il momento qui la situazione è veramente in bilico il bianco ha un'altra posizione è in vantaggio posizionale ma se non si sbriga il nero riuscirà a creare un attacco forte nel lato di donna e quindi H5 qui il nero giocatore per C6 secondo me questa è una mossa più a livello psicologico nel senso che qui il nero crede di aver perso di avere una situazione veramente brutta ha paura di questo attacco letale e quindi decide di provare a sacrificare una torre per liberare la situazione ma in realtà c'era un modo per salvarsi ovviamente è una partita rapida quindi i giocatori non hanno il tempo di trovare queste mosse ma in realtà alfiere per G5 pedone per G6 F per G6 alfiere in E2 donna F7 torre B1 qui il bianco il nero poteva salvarsi attenzione perché donna H3 non funziona sembrerebbe la minaccia di matto quasi irrecuperabile ma la banale alfiere H4 difende tutto qui il nero è sicuro perché il cavallo difende l'alfiere e non c'è modo di continuare questo attacco quindi il nero raggiunge una posizione molto solida grazie a questa variante per esempio continuiamo qualche altra mossa qui dopo torre B1 c'è un tatticismo magari al solito come allenamento vi suggerisco di mettere un attimo pausa e provare a risolverla qui il tatticismo nel nero è alfiere per E3 infatti non può mangiare l'alfiere perché c'è scacco doppio e quindi potrebbe continuare la partita con torre per pedone per torre H3 alfiere H6 e qui il nero sta bene ok non sta molto meglio per carità è comunque sotto l'attacco c'è deve stare molto attento ma rispetto alla posizione di prima rispetto al sacrificio che è stato fatto qui ovviamente il bianco mangia subito la torre rispetto a questa posizione il nero in quel caso era ancora una posizione tutta da giocare tutta da vedere non era affatto chiara il risultato finale invece qui sembrerebbe che il bianco possa solo vincere ma vi invito a rimanere collegati perché ci saranno un sacco di capovolgimenti in questa partita netto vantaggio bianco addirittura il motore dà più 7 più 7 è come se il bianco avesse una torre e due piani di vantaggio pazzesco ma donne 6 donna d5 il bianco propone un cambio di regine cavallo per e3 scacco mosse pazzesche tatticismi bellissimi qui scacco di scoperte perché si attacca l'alfiere pedone per donna per alfiere quindi il nero recupera un pedone ma attenzione perché pedone per g6 è sbagliata pedone per g6 è sbagliata qui il bianco poteva vincere subito duda manca un match point clamoroso h6 h6 è bellissima guardate qui cosa succede dopo h6 donna 4 scacco per esempio re in d2 torre in d8 sembrerebbe che il bianco abbia perso la regina ma clamoroso h7 scacco re in h8 donna per torre alfiere per alfiere per g7 re per e scacco matto duda non vede questa combinazione pazzesca sarebbe dato un matto strabiliante con sacrificio di regina non vede questa combinazione quindi gioca h per g6 e allora donna f5 scacco le sorprese non finiscono qui perché per esempio anche qui la partita è vinta per il bianco che banalmente dovrebbe giocare solo re c1 a re 3 con il re mantiene questa posizione spettacolare con colonna h aperta qui non si può non vincere addirittura in molte posizioni simili c'è anche il reticio torre a corto scacco re per donna h1 e poi matto in h7 qui ovviamente con donna per g6 il neos salverebbe ma dopo alfiere per c7 cavallo in e4 qui il bianco è una posizione ottima ha anche un po' nel c6 quasi a re da promozione oltre l'attacco nato di re ma il bianco gioca e4 anziché re c1 gioca e4 errore errore perché questo pedone viene perso e addirittura il nero che ovviamente è un fortissimo rende maestro prima mangia il pionio g6 e poi catturerà il pionio in e4 alfiere in f6 bellissima mossa è un trucchetto infatti l'alfiere non si può mangiare ma questo Giobaba lo sa infatti se si mangia per esempio di pedone dopo pedone per ci sarebbe torre in g1 e l'inchiodatura della regina l'alfiere non viene mangiato si gioca l'alfiere in d6 continua quindi così la partita alfiere in d4 cavallo per e4 e il nero pedone su pedone sta recuperando la propria posizione per esempio il motore da più 7 che erano prima ora da più 1 e quindi il vantaggio è proprio risicato un match point che è perso clamoroso ma andiamo avanti perché continua la partita con torre d3 torre in e8 re in b3 questo re cerca di sfuggire agli attacchi del nero cavallo per g5 un altro pedone che viene mangiato alfiere in c3 torre b8 scacco re in a2 cavallo in e4 e ora il bianco gioca a re in a1 ma qui poteva giocare anche torre in e1 che probabilmente era migliore infatti dopo cavallo per c3 torre per c3 donna f6 con idea di attaccare la torre banalmente torre c2 il bianco otteneva una buona posizione qui però è difficile vincere anzi probabilmente potrebbe finire in pareggio perché alfiere e due peoni per torre si equivalgono praticamente e invece dopo re in a1 qui il nero può vincere e infatti si caporolge completamente alla partita cavallo per c3 torre per c3 e ora una mossa semplicissima non viene vista da giubava banalmente qui giubava gioca donna f6 l'idea è di inchiodare la torre assolutamente corretto ma alfiere in e7 è molto più efficace infatti alfiere in e7 minaccia alfiere f6 ed è imparabile non c'è modo per evitare alfiere f6 d'altronde se la torre si muove alfiere f6 scacco e poi arriva torre b2 ed è finita quindi alfiere e7 e la partita era finita match point di giubava mancato donna f6 donna d3 torre in b3 si attacca il pezzo inchiodato donna h7 scacco re in f8 donna h8 scacco re in e7 il re fugge torre in e1 scacco guardate che qui c'è una torre in presa attaccata a due pezzi ma il bianco continua a dare scacchi alfiere in e5 torre attaccata a tre pezzi donna c8 e attenzione ultimo match point qui anche in questo caso magari vi invito a mettere pausa per cercare di vedere qual è la mossa migliore questa non è affatto semplice vi avverto che non è non è come vedete semplice infatti giubava l'ha mancata qui giubava ha giurato donna in e6 donna in e6 sbagliata e il bianco ha una combinazione per pareggiare la partita definitivamente la mossa corretta era donna d6 l'idea è minacciare matto in a3 e difendersi perché su donna sette scacco donna per pedone per re per la torre attaccata dall'alfiere quindi il torre per l'alfiere per forza torre per e qui il nero avrebbe vinto facilmente con 3 pionieri di vantaggio si vince in maniera abbastanza banale torniamo indietro perché con donna e6 invece un altro tatticismo io non so veramente quanti tatticismi sono stati in questa partita sono innumerevoli tatticismo per il bianco questo secondo me potete vederlo non è difficilissimo magari anche in questo caso provateci il bianco qui gioca donna per c7 scacco sacrificio di regina perché su alfiere per c7 che ha risposto duda torre per re per torre per torre e di nuovo si capolta situazione perché ora dura è in vantaggio è in vantaggio però il finale non si può vincere perché alfiere e pedone contro torre molto molto difficile da vincere inoltre questo pedone rischia di essere mangiato andiamo avanti perché la partita non è finita re in d5 torre in c3 appunto per difendere il pedone f5 attenzione a questi pedoni che ora avanzano e creano grandi minacce g4 f4 f3 però il re ci arriva il re arriva a prendere questi pedoni a fermarli torre in c4 alfiere scacco re qui f2 torre in c1 per difendere la casa di promozione re in c7 re per g4 alfiere in e3 torre in h1 re per c6 e la partita si va verso una posizione di patta quindi procedo molto velocemente torre in c6 scacco re in d7 un po' di scacchi e poi chiaramente bisogna sempre stare attenti a controllare la promozione re in e7 torre in f5 re in e6 torre f3 ta 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 e qui i giocatori si accordano per la patta ma che partita è stata incredibile un sacco di match point clamorosi e non visti ma tantissimi eserifici tantissima combinazione tattica secondo me assolutamente è la partita più bella di questo campionato del mondo rapide ma fatemi sapere che ne pensate commentiamola qui sotto tutti insieme e fatemi sapere appunto se vi è piaciuta se qualche attaticismo l'avrete visto o qualche attaticismo volete analizzarlo meglio e magari lo analizziamo insieme nei commenti vi lascio qui dei video insieme in pressione lasciate un like se vi piace il video e ci vediamo alla prossima ciao ciao